Lui è Gabriele, considerato lo sfigato della scuola. Lei è Emma, la sorella di Gabriele. E lui è Leo, il belloccio. Nonostante i disapori e le risse, e vari rapporti di odio e amore, partendo da un messaggio criptico, i tre, superando gli ostacoli, dirigeranno a una sconcertante verità, che cambierà del tutto le loro vite.